Buonasera del gruppo degli artisti Irvini, sempre qui per l'inaugurazione del Rocabellini, la questione del Principe, c'è anche Master Food, la lavorazione di Trafora e Arminieco, Massimo Sessetto, nome d'arte, 3-8, 8-6-2-3-5-5-2, Facebook Master Food, guardate che noi da voi, ci vedremo tra pochi minuti. Tutto le note di Marabelle. Questa è un artista che sta facendo, guardate che bello, se non il posto potrà ancora uscire. Allora abbiamo dato il gruppo di Contag, il nostro Master Food, il gruppo di Sessi e Buonasera, della Cassina di Sessi che li vengono.